SIGLA 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 Vai, esci da qua SIGLA N Russi SIGLA N WoW SIGLA 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 Pronto, ci sono due persone che mi sono stanzeranno, non è che potete facciarle. Non ce ne è potete andare in galera o qualcosa, perché mi dono un botto di fastidio. Io sono di fastidio, ma questa è una... Sì, sì, io sono rinforzata, ok, grazie. Vai, vuoi vedere stare, non mi avrei sfumato, no. Non mi tirare il cuore di filino. Non penso nemmeno. 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 Oh! Ma non so, ho capito. Appunti per me, sì. Oh, finalmente la mia nuova macchina. Ok, per questo giro mi ho rinforzato. Ah, finalmente. Cioè, a già che ci penso, sono qui. La mia nuova macchina. Ci sono qui nel cappatoio. Vabbè, finora. Vabbè, finora. Vabbè, finora. Vabbè, finora. Mamma, perché? Non manca. Stai qui. Odile. Mia mamma. Non c'è bisogno di fare un pezzo maniaco. E parla. Non c'è bisogno di fare un pezzo maniaco. Non c'è bisogno di fare un pezzo maniaco. Ma ma è spento? Ma sei scema. Non c'è zitto. Eh vabbè, con i due cose, ma mi fa fuori. Mi fa sicuro. Non c'è bisogno di fare. Ma mamma che stai toccando. Dammi a me, ma. Ma non le sai far. Mamma, lei si mette. Ma come già quest'ora sei rinventato sturato malissimo? Mamma. Così? Così, così. No, così la settimana. Luca smetti di Luca balli Luca balli Raga E' buttato però E' questo No niente La madre mi ha gesturato Che è raga Ma ti piace Ma è vera che ho avuto Non ho avuto cose male per dire La verità Due litri come se li bevessi E' impossibile Che deve diventare Si sta zesso 1,2,3 Comunque Mike è assurdo Cioè io non ci guardo questo Fami sto altra Ci dovrebbe essere Comunque Mike è assurdo Comunque Mike è assurdo Comunque Mike è assurdo Ciao un'altra domanda ciao la testa la città insieme non c'è un sbaglio questo è la macchina di marco il non perché aspetta visto sono cose un po' c'è il fratello di Mano che mi ha dato le chiave di sta macchina via è il suo fratello tu non puoi entrare perché è una situazione un po' drammatica cose un po' c'è un po' è la cucina ma ti... chi ha proprio bu? non voglio non voglio non voglio ma voglio non voglio vero? ma è la è la è la No, 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 era fai fia. Eh, per divanti io so che adesso chiamo Giulio, da un giù in poi perché mi ricorderò di like. Eh, insomma. Si chiama per caso Giulio Bianchi? Il ciascuno è Bianchi, perché? Ed è nostra amica. Eh, c'è crepata, c'è esplosa, vabbè, se vuoi più entrare, cioè se è tua cugina. Mi stiamo parlando proprio di lei perché esiste un modo per resuscitarla. Ma lei come si chiama? Lei si chiama Abby. Sì, sì, non pensate di Abby di Della Stovago. Eh, comunque... Non si ricorda neanche in che lui si amm, probabilmente. Ehm... Sì, mi lo faccio. Sì. 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 Allora, vi dico cosa serve. Serve della Redstone. Dove quando vengono i punti a tutti. Redstone. Torce di pietra. E dopo serve anche un cartello. Vuoi rinascere? Tre cartelli con delle tre... Con tre cani. Salvo, salvo. Hai scelto il momento giusto. La stavo per buttare. Cioè, nel senso... La stavo per buttare. Nel senso Redstone... 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 Eh, quelli sono altri discorsi. Eh, per... Del Torce S. C'è, va te. Un chilo, io, io, no. Guardate, ma ti sono in la cappa togli, però. No. No. Vabbè, basta, basta, me ne serve. Vabbè, togli. Non capisco niente. Padane? Io ne ho. Ma il che tu hai dei cartelli? Eh... Eh... Gli insegnamenti, qualcosa. Eh, sì, io... Io, 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 per... Tieni. Tieni. Ok. L'ho già dato, me l'ho già dato. Me ne sarebbero due. Ok, te ne do un altro. Tieni. No, ok, grazie. Ok. Ok. A me sì, a me, a me, a me, a me, a me c'è da altro, non mi ricordo. Mi ha posto preferito, allora, mi ricordo qua Giulia. È venuta qua per fare l'elementari. Quindi penso, tipo, la scuola. Appunto. Penso proprio che il suo posto preferito sia la scuola. Perché ha fatto, tipo, l'elementari, tog, cinque anni, da tutti i semi cippa. Vedi che io, a me, la notte, con 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 la notte. Allora, preferito, se non mi sbaglio, è questo. Allora, raga, allontanatiti tutti. Sì, vuoi fare qua. Allontanati. Ok, va detto che io odio il motore, quindi, toglie. Voglio fare il motore. Raga, non senzione se Luca continua con il motore. Giro, ho sempre detto il motore. Ciao, ciao. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no, no. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione